Ciao a tutti ragazzi, siamo Zeus che gioca stamattina, nei precedenti video era piccolino perché ovviamente erano video vecchi e adesso c'è lui tutto sfrenato, non lo trovo, eccolo non gli sembra vero, questo è il mio editor, taglia i video di sistema, lui è super attivo, sempre super attivo nelle sue giornate Zeus, ciao Zeus è felice? si è felicissimo, guarda com'è felice telecamera, è felice, perché è felice? è felice perché noi non lo lasciamo mai libero, sta sempre chiuso in uno scantinato, non stiamo scherzando è felice, è felice, non è vero che sta in uno scantinato, sta sempre in casa, poi lui esce a passeggio, esce a fare gli addestramenti insomma, che ti stai mangiando? è molto attivo, eccolo praticamente super energico speriamo solo che non valli sotto, perchè l'ho aperto ma non scende guarda come è troppo simpatico e questo potrebbe fare per ore e ore adesso lo vado a reggiorare no, eccolo là ci avviciniamo eccolo, arriva che video è interessante è molto interessante allora proviamo a fare una cosa però non abbiamo il necessario eccolo Zeus Zeus ciao aspetta non ci scappa no adatta, Zeus vieni seduto seduto bravo seduto eh però non ci abbiamo niente non ci abbiamo niente da darti Zeus seduto seduto Zeus seduto bravo seduto terra terra Zeus aspetta terra non funziona no funziona anche sei buggato che non lo so che vuole guarda lì papà com'è eccolo terra terra aspetta Zeus terra 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 non c'ho nulla da darti no questa parte vabbè fa niente eccolo andiamo Zeus andiamo ma andiamo alla scoperta del mondo si eh ma la scoperta del mondo adesso questo qui non si farà prendere più guarda è una furia quindi in sostanza 12 ore del video lo passeremo cercando di prendere lui ok adesso proviamo a mettergli il guinzaglio tieni Gerardo la nostra sfida della giornata è prendere Zeus e mettere il guinzaglio questa è la sfida chi vincerà Gerardo o Zeus riusciremo a prendere Zeus per mettere il guinzaglio allora qua ci vuole astuzia vediamo di giocare per astuzia allora abbiamo a favore il fatto che lui non ci piace andare là ma è una schiccia è eccolo adesso tu tieni il gioco puntarata eh sì vabbè io vado e lo prendo c'è un filo d'erba attaccato non lo riuscirai a prendere mai ecco ah inoltre grazie ma dovresti puntarata di camera a me allora andare intanto sul mio canale YouTube dove porto videogiochi di altissima qualità si chiama Jerrylord Yt tutto grande no tutto grande no tutto attaccato niente niente è una scheggia impazzita è una scheggia impazzita madonna madonna riuscirà Gerardo a prendere Zeus lo scopriremo nei prossimi 10 anni nei prossimi 10 anni calmi tutto vediamo ecco e che vince Gerardo ok tieni vengo tieni io riprendo no tu tu eccoli che partono e questa è la nostra villa si si esce stiamo per uscire emozionante questo momento è emozionante vieni tu si ma per passare una macchina Zeus attento state attenti anche voi ragazzi a casa non vuole uscire ha paura dei trattori ma qua ragazzi si produce vino tanto vino troppo allora stai portando male il guinzaglio lo devi portare all'altra mano esatto così perfetto ci siamo Zeus no non tirato così ti mostro dammi è il mio cane tecnicamente eccolo qui ok ci siamo Zeus andiamo e ora ora la posso portare 2 euro io ma vai nasce ok questo è il primo passo verso da un mese siamo all'isola dei famosi ok allora scegliamo la nostra direzione possiamo andare di là che è più interessante ma lui mi sembra che da come si sia messo non è molto interessato a questa passeggiata andiamo qua ragazzi ci sono gli anfratti pericolosi cosa sono gli anfratti? per tu ci sono Zeus cosa sto combinando che fai? cuccio cuccio amore sei stanco lui c'è stancato non vuole andare a passeggio adesso ma deve no non deve ha detto che non vuole andare deve per le views deve dai Zeus andiamo a passeggio allora la passeggiata continua io penso che il video può essere allora io sono l'editor io decido tu sei l'editor Stranger Things mamma non ci sponsorizza e lo so che non ci sponsorizza Zeus Zeus saluta la camera salutiamo prima che ci buttano sotto ragazzi sì Gerardo fai il saluto speciale allora saluto speciale tanto ormai sono diventato il protagonista pure di questo canale qua allora ragazzi io direi che possiamo concludere qui questo episodio con Zeus ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi